Parliamo in apertura del problema delle truffe agli anziani. Anziani spesso colpiti, spesso giungono persone da Napoli che sono capaci di questi stratagemmi criminosi. Sicuramente l'isola vive nel periodo estivo di questo fenomeno delle truffe agli anziani. Diciamo che se determinati fenomeni non hanno una stagione, un periodo, quella delle truffe agli anziani invece è un fenomeno prettamente estivo, proprio per il fatto che i truffatori tendono in parte a confondersi nella grande massa, comunque nel flusso turistico, che giustamente ha dei turisti che vivono il nostro territorio nel periodo estivo. È importante fare prevenzione per tutelare quelli che sono poi i nostri anziani, i nostri parenti, i nostri familiari, le persone più fragili del nostro territorio. Dico nostro perché io mi sento parte pienamente di questa comunità. La tecnica che viene utilizzata per andare a truffare le persone un po' più anziane o comunque sia più fragili è quella di contattare telefonicamente un telefonista da qualsiasi parte d'Italia, del mondo. I nostri numeri di casa sono online, su un sito, pagine gialle, ovunque. E nel momento in cui l'interlocutore capisce che dall'altra parte vi è una persona anziana ipotizza un finto sinistro stradale, piuttosto che le tecniche sono le più disparate, cioè la necessità di effettuare un bonifico per il pagamento di un pacco postale in arrivo, piuttosto che, come dicevo prima, la tecnica che viene più facilmente utilizzata è quello di simulare un finto sinistro stradale in cui un nipote, un figlio, un familiare è rimasto o vittima e quindi di conseguenza è necessario pagare una somma di denaro a un avvocato piuttosto che a un appartenente alle forze dell'ordine per cercare di ovviare e risolvere la problematica. Di conseguenza, carpita la fiducia della persona anziana che resta, viene convinta a rimanere al telefono col telefonista, si presenta sotto casa un cosiddetto operativo. Spesso sono ragazzi anche minorenni, però che vengono chiaramente dalla terraferma e si fanno consegnare somme di denaro anche purtroppo ingenti, simulando di essere appunto un finto avvocato, un finto appartenente alle forze dell'ordine. In queste ultime settimane, grazie allo sforzo dei miei militari, sono state ritratte in arresto diverse persone e denunciate altrettanto, è proprio perché insomma c'è uno sforzo continuo, è un tema che affrontiamo quotidianamente, proprio per preservare quelli che dicevo prima sono i nostri familiari, i nostri nonni, i nostri prossimi congiunti. La vera attività che è necessario fare per poter prevenire questo fenomeno è proprio questa, l'informazione. Se dal nostro canto ovviamente dobbiamo svolgere dei servizi sul territorio per individuare i truffatori piuttosto che svolgere attività ben più strutturate perché spesso questo è un business di attività ben più strutturate e complesse, quello che è necessario fare è proprio questo, l'informazione. Chiunque riceve una telefonata da un finto avvocato, un appartenente alle forze dell'ordine, deve chiamare il 112. Il consiglio che do e che dobbiamo dare, perché poi questa è un'informazione che dobbiamo fare noi con i nostri amici, con i nostri familiari, nella nostra quotidianità. Mai nessun appartenente alle forze dell'ordine, avvocato, corriere, perché adesso anche con finti corrieri simulano per l'appunto la necessità di dover pagare delle somme di denaro, mai nessuno chiamerà direttamente presso la nostra abitazione al numero fisso. Laddove si verifichi una situazione del genere, bisogna chiamare il 112.